Ciao a tutti, bentornati a Miss Teenager Original nel nostro spazio Flash Sport. Se dovessimo fare una lista delle cose che non possono assolutamente mancare durante un allenamento, c'è sicuramente la musica, grande compagna di vita anche durante l'attività fisica. Ogni allenamento necessita di una colonna sonora adeguata, che possa rendere più efficace e sicuramente notevolmente più piacevole lo sforzo effettuato. Quali sono le musiche adatte durante un allenamento? Quali sono le tracce che possono dare un maggiore sprint durante una corsa? Beh, le nostre manager ci hanno risposto che non esiste una categoria specifica o un cantante più gestonato, ma ognuna ha i propri gusti. Chi preferisce la musica italiana, chi il rock, chi il rinvi e chi addirittura ascolta le sigle delle vecchie castoni animati della loro infanzia. Vi aspetto!